Agli italiani, io mi sento più italiano che italiano non si può, quindi è proprio agli italiani che mi hanno dato proprio la vita e la fantasia di creare alcune storie che poi hanno amato, grazie a loro. E ricevere la Venezia poi è una cosa particolare, speciale, perché così come è unica la città va a diventare unico tutto. Venezia oggi mentre venivo qua, è un miracolo, è una città che è un miracolo, non si capisce come possa essere nata, sorta, è un miracolo. Quando sono arrivato davvero mi sentivo il doge, è un'accoglienza straordinaria, uscivano da tutti i vicoli, da tutte le capo, è una cosa impressionante. La serata inaugurale della 78esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia si è aperta sotto il segno indiscutibile dell'inconfondibile classe del rione d'oro alla carriera Roberto Benigni, che è dedicato il riconoscimento ricevuto alla moglie Nicoletta Braschi e a tutti gli italiani. Vorrei fare le mie opere rivoluzionari, farle ora, quelle più innovative, vorrei tanto preparare un film nuovo, ma se trovassi l'idea vi darei appuntamento qui appena, non riesco a ogni volta comincio e poi su Nicoletta, ma sarebbe bellissimo. Benigni è arrivato per ultimo su Red Carpet, accolto dal presidente della Biennale Roberto Cicutto e dal direttore della mostra Alberto Barbera, poi si è seduto in sala grande accanto al capo dello Stato Sergio Mattarella, a cui ha chiesto di fare un secondo mandato da presidente della Repubblica. Vorrei studiare da grande elettore per andare a votare alle prossime elezioni per fargli fare il secondo mandato, lo voglio convincere ma non ho occasione di parlarci tanto, per me questo presidente è il presidente veramente più, come posso dire, prestigioso, con una sua serietà e una sua allegria, è incredibile, è incredibile. E poi è un presidente davvero che ci ha aiutato tanto in questo momento in cui l'Italia ha avuto bisogno di una presenza così, insomma, che ci desse sicurezza, ecco, e lui ha fatto questo per tutti noi. Il ministro dei beni culturali Dario Franceschini così ha commentato la decisione della Biennale di assegnare il leone d'oro a Roberto Benigni. Più meritato non poteva essere. Grazie.